Ciao a tutti ragazzi e oggi siamo su Minecraft, sì siamo su Minecraft, questa è la mia skin e vi voglio farvi vedere il mio mondo in sopravvivenza ok caricando, questo video è cominciato troppo veloce scusate ero qui dai carica 5 ore, dai e amore, se farmi il video si carica velo, si carica il mezzuccio cotto è seguito ok questo questo video non uscirà ok ecco, questo è la mia casa perfetto, lo dovete vedere dall'angolo bello questo è la mia casa si guardate quanto è grande è grande iscriviti al mio TikTok candy si chiama ed è questo il mio tiktok ho ancora questa armatura perché sono molto con l'armatura di diamante ok esploriamo ok io così esploro ok aia aia che cavolo ma te ne mostro bene ma io faccio giurlo ma io faccio giurlo ma io mo faccio giurlo ecco c'è da aia su 409000 aia che cavolo è sucesso non sono spaventato ok qui c'è un'occhiazza? 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 giurlo? un'occhiazza della vita io sono rischioso però qui no qui mi dispiace no il ferro mi serve dai prendiamo questo qui questo io sarei io che scavo io mi butto nella lava ora ora c'è ora come l'ho visto con i miei occhi non lo so perché io sono un po cieco ok non so perché è bella così però io sono morto bravo non è Oh, è vero, è vero Oh, è vero, è vero Oh, dai Alla, cara, la finta in table Scusate, però ho la tosse Sì, sì Vai B La finta in table e e e e e e e siamo posti cosa cavolo è successo ok, non giochiamo più a Minecraft e ma perché succede così dai battene via non voglio giocare in questo gioco schifo ok siamo su brosars cosa portare la teoria bella tu ti ratti oggi siamo su brosars siamo su brosars non su make up sottare ok metti samara così va bene così e camera dai ecco ciao ok io se gioco così vedete il gioco non so aspettate la la metto qui ok io ho 10.000 trofei ovviamente non è un passato giochiamo in 2 con non 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 scusate scusate che 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 mi serve non 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 è quindi c'è un'italiano proprio di brutto però di brutto però di brutto ne ho dimenticato eh non ci parlo non ci parlo da tanto tanto tempo dal caso mezz'anno da quando non faccio il video ecco prendiamoci sotto il bottone e invece spettiamo tutto solo che non sei neanche ammazzato ma vattene via che io sono a livello 10 ma vattene via con tutte le due la vita stavola ma sono neanche io con le ho messa ma dai viene con il bottone e con due perche se uccide ha molte il mio bravo preferito si è il mio secondo bravo preferito però il primo è l'altro perchè diventa invisibile solo perchè non se l'aspettavo non se l'aspettavo posso al favore non sono gentile che dovrebbe tenere tutto il maccio in modo in modo posso guardare tutto questo contro 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 qualcosa di tipo di tipo ma la mia ora io mi prendo sono paura e mi hanno avuto via con un po' di quege e io tiro questo e abbiamo fatto primo posto è un in due uso è una bestia con leone ok ci prendiamo questo Ancora un po', ancora un po', perché ci voglio arrivare a 500 minuti, 500, perché così ho dimenticato l'italiano e no, dobbiamo arrivare a 10 minuti. Facciamo ancora uno. Ok, è diventato anche Notte su Brawl Stars. Bene. È il contrario. Male per lui. Male per me. No, male per lui. Bene per me. Male, bene per lui e male per me. Ho dimenticato l'italiano. Lo devo studiare ancora, l'italiano. Cinque, quattro, tre, due, uno, un bici. Male, mamma mia, sei un tipo doppio. Non è un fatto così, io ti ammazzio a te. 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 Dai. Contro il... Oh, bravo. Ho ti ammazzato a te. No, 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 no. Ok, io me ne vado. Me vado via, come un poteo. ... si ma vai a quel paese ma vai 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 a quel paese che scaliamo con leone ok ce ne facciamo dai ancora una e basta perché io mi annoio fare il video non lo so perché perché devo troppo parlare trovare e strelare così così dicono i miei amici trovare e strelare a me mi infeggono se fanno così loro non lo sanno perché io in serio io lo dico ma non c'è gente delle bugie non c'è gente delle bugie ma vieni c'è una bugia maria l'imperatore quando io questo leon l'ho trovato nella categoria flippa quelle piccole le blu ve li immaginate? maria l'imperatore l'imperatore e abbiamo vinto anche questa partita lo vorrei fare a 600 e ragazzi e ragazze per questo video è tutto ciao 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 ciao